Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Kate Melotin sembrava stare bene, a farlo sapere un testimone che ha visto la principessa dei Galles nei giorni scorsi. L'unica persona, ad eccezione dei familiari più vicini, che ha avuto modo di incontrare la 42enne, che non si fa vedere in pubblico dallo scorso marzo, da quando ha annunciato in un video di avere un cancro. È accaduto nel Norfolk, qualche giorno fa, dove Kate si è recata insieme al principe William e ai tre figli. Un posto tranquillo e isolato che ha spinto la futura regina a uscire con la famiglia per qualche passeggiata e fare un po' di spesa. Di recente si è parlato di qualche avvistamento ma nessun dettaglio è trapelato. Almeno fino ad oggi, quando qualcuno ha avuto il coraggio di parlare. Il commesso del negozio alimentari Bakers & Laners ha confessato di aver visto William e Kate. Il principe ha comprato delle tortine al cioccolato e zenzero. Qui tutti rispettano l'esigenza di privacy e di vita normale di cui questa famiglia ha bisogno. Quello che posso dire è che Kate sembra stare bene. Le condizioni di salute della principessa dei Galles stanno dunque migliorando dopo un periodo non facile, segnato dagli effetti collaterali della chemioterapia. Anche William, alle celebrazioni per L80, esimo anniversario dello sbarco in Normandia, ha confidato che la moglie sta meglio. Non è chiaro, però, quando tornerà in pubblico?